ciao a tutti amici dei pesci benvenuti e bentornati io sono ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi metafisica spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto di ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale mostrami pesci tendenze energetiche generali per la seconda metà del 2024 abbiamo il diavolo amici dei pesci potrebbe esserci qualche condizionamento vedremo se sarà diciamo un condizionamento mentale vostro piuttosto che esterno qualcosa qualche situazione magari che potrebbe coinvolgervi però di solito quando c'è il diavolo è come una sorta di schiavitù volontaria cioè siamo noi che decidiamo di rimanere in quella situazione anche se sentiamo che non ci fa bene anche se sentiamo che ci vince incola e che magari non è l'ideale per noi devo vedere con i tarocchi intanto vi ricordo che le letture sono per un collettivo quindi è facile che non risuoni tutto se non risuona se nulla o se voleste completare il messaggio potete ascoltare l'ascendente segno lunare per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida che trovate sotto in descrizione sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo in me nel caso vogliate contattarmi e il link agli oroscopi gratuiti no scusate ai corsi gratuiti presenti sul canale bene questa è una lettura generale successivamente pubblicherò amore lavoro e crescita spirituale allora abbiamo una regina di denari un 8 di pentacoli il giudizio re di denari due di denari sei di spade e cinque di coppe allora devo dire che potrebbe essere una situazione lavorativa o una doppia situazione cioè nel senso molto mi dice che potrebbe essere qualcosa legato al lavoro e molto mi dice che potrebbe essere una situazione non ambivalente come se ci fossero due o più cose da tenere in piedi da gestire allora se queste cose da gestire erano tutte a vostro carico diciamo così ho l'idea che vi caricherete ancora di più perché proprio questa è la carta del lavoro lotto di pentacoli potrebbe non essere un lavoro attribuito è per esempio potrebbe essere il lavoro di di occuparsi di qualche cosa in più della casa o occuparsi non lo so anche di qualche parente piuttosto che amico in un momento di bisogno magari però diciamo che tendenzialmente lavoro andiamo a vedere carta per carta partiamo dalla regina di spade abbiamo la sacerdotessa e di nuovo un atto di pentacoli e ragazzi credo che qui sì ci sia come un cambio di ruolo o come questa sensazione andiamo a vedere lotto di pentacoli 7 di coppe guardate ragazzi o come la sensazione che qui con la regina di spade qualcuno tagli qualche lavoro qualche potrebbe anche essere qualche cliente se per caso siete autonomi c'è qualche cosa inerente la quotidianità che viene rivista e lavora una cosa che viene fatto nel quotidiano e qui abbiamo come un allora può essere vista in due modi in realtà come nuove opportunità lavorative che arrivano di conseguenza si può con questo 10 di spade lasciare indietro quello che non piaceva quello che non pagava più o ragazzi perché siete di coppa fa anche riferimento a quelle che sono un po le illusioni qui è come se si lasciassero indietro certe illusioni sento più vibrante la prima opzione quella che vi ho dato prima quindi in le tante opportunità di lavoro che entrano tante che poi dopo abbiamo un giudizio adesso lo andiamo a vedere però secondo me c'è proprio una rinascita a livello probabilmente di lavoro guardate se per caso state decidendo state cercando di capire se dovreste buttarvi su qualche tipo di lavoro spirituale su o se per esempio siete psicologi e volete integrare magari la vostra pratica diciamo di studi occidentali con delle pratiche di studi orientali o di esoterismo sento che sarà un successone e se siete in un cambio dove magari prima avete fatto un attività diciamo normale e volete iniziare qualche cosa di spirituale anche qui ragazzi il panorama è splendido si finisce la linea con il re di pentacoli che è una carta di abbondanza una carta di qualcuno che ha costruito un regno quindi si crea il suo proprio spazio sia di lavoro ma anche nella società vi direi e qui con questo 6 di pentacoli potrebbero proprio arrivare nuovi accordi potrebbero arrivare nuovi contratti potreste stringere proprio nuovi nuove alleanze scambi commerciali io la vedo molto 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 positiva tutto in espansione qua andiamo a vedere adesso questo re di pentacoli abbiamo un cavaliere di spade e la ruota della fortuna potrebbero arrivare anche soldi imprevisti io la vedo molto positiva soprattutto a livello economico poi pubblicherò quelle sul lavoro ed economia quindi vi invito su maris a restare sintonizzati per non perdervela però qua ragazzi tutto mi parla di denaro cioè nel senso è come se ci fosse una sorta di o cambio lavorativo che vi porta o cambio o taglio che vi porta ad un'esplosione di una rinascita in qualche altro senso a nuove a guardare nuovi orizzonti guardare anche un pochettino di più la cosa da un punto di vista più ampio e questo vi permetterà di far girare la fortuna mi viene da dire è come se metteste il focus andiamo a vedere questo due di pentacoli ragazzi come la sensazione che qualcuno sia dipendente o se il vostro caso di essere dipendenti qualcuno sta pensando di aprire qualche cosa per conto proprio diciamo che questo due di pentacoli io lo sento molto collegato con il diavolo perché è vero che entra tutta questa abbondanza queste opportunità i nuovi contratti e le nuove avventure i nuovi progetti l'abbondanza economica un tour no un turno come si dice un giro diciamo di quello che è la vostra realtà quotidiana però è anche vero che per fare tutto questo per mantenere in piedi tutto perché io qui ho come la sensazione che ci potrebbe essere una fase dove dovete tenere in piedi tutto quanto probabilmente non mollare l'azienda dove siete perché non lo so se magari tanti anni che lavorate li dovete dare un mese due mesi di preavviso però intanto è come se già qualche cosa vi spingessi in avanti verso la novità allora voglio andare a vedere queste di spalle perché ho la sensazione che qui vi toccherà in un certo senso lasciare indietro qualcosa andiamo a vedere abbiamo una regina di pentacoli e un 5 di spade cinque sei dispare qua ci sono delle credenze ragazzi e qui arriviamo al diavolo che parla anche appunto di mente di quello che si pensa di quello che si crede potrebbero esserci delle credenze che creano una sorta di di difficoltà in voi per integrare questo cambiamento mi verrebbe da dire o come la sensazione che potrebbe esserci una donna o una figura diciamo che abbia un modo di fare materno anche se un uomo che vi ha condizionato parecchio e potrebbe essere qui la credenza limitante legata al potere e legata a diciamo una frase potrebbe essere per farvi capire la credenza una frase potrebbe essere le donne non hanno diritto di arrivare ai vertici perché c'è qualche uomo che ha questo tipo di credenza quindi sento che è una cosa che condiziona su quel livello perché molte volte non si riesce a concretizzare quello che noi vogliamo perché nel nostro subconscio è registrato una credenza di base che appunto limita perché si chiama limitante e quindi bisogna sradicare questa credenza e questo ve lo dico perché sento che vedo qua questo sei di spade andiamo a vedere il 5 di coppe regina di bastoni e 5 di bastoni allora io credo che nel prossimo periodo veramente vi si apriranno delle opportunità ma in un certo modo vi dispiace lasciare il posto il ruolo quello che dovete lasciare per effettuare questo cambio questa rinascita io credo che vi troviate bene lì dove siete semplicemente che tutto quello che vi si apre è migliore è più in linea con voi è più in equilibrio vi può dare più abbondanza quindi non la sento in realtà una cosa così negativa questo 5 di coppe alla fine sì è vero quando termina qualcosa c'è sempre un po di tristezza c'è sempre un po di malinconia probabilmente il ruolo che avevate o la posizione che assumavate o quello che avevate raggiunto vi dava di gratificava molto o comunque era un qualche cosa che vi piaceva a fare perché sento che qualcuno stava in mezzo alla gente però è anche vero che magari era un lavoro che un ruolo una posizione una situazione che creava come degli dei conflitti interni dentro di voi quindi secondo me alla fine questo cambiamento è per il vostro più alto bene ragazzi e questo diavolo vi dico io lo sento abbastanza collegato con questo lui di pentacolo il fatto di dover gestire troppe cose di dover far tutto di dover essere perfetti di dovercela fare di dover fare quello che gli altri si aspettano cose per lo stile e sono tutte credenze limitanti e stiamo a vedere osho che cosa vi dice isolamento e il controllo 3 di spade e re di spade tantamente anche qui sapete ragazzi quando uno tende a controllare tanto e è il diavolo lì per controllo il tenere sotto tutto sotto controllo molte volte è causato da una sottile forma di insicurezza dove la persona essendo profondamente insicura per darsi delle barriere di protezione sicura per ricreare quella sicurezza tende a mettersi regole molto rigide a rispettarle e a controllare che anche gli altri rispettino queste regole e da lì il controllo cosa succede che troppo controllo così certe volte è un po come farsi violenza cioè devo fare questo non lo faccio lo faccio perché poi devo fa perché quello mi fa sentire al sicuro che quindi è un po il fare troppe cose mi viene da dire e forse ci sarebbe un attimino più bisogno di stare con se stessi di viversi anche questo momento di cambio di capire diciamo come poter mettere un balsamo su questo momento di cambio su questo momento di anche dolore ragazzi questo è un 3 di spade diciamo che tutto sommato la lettura è positiva però sì che ci sarà un qualche tipo di di realtà che effettivamente vi farà vibrare qualche tipo di sofferenza mi scenderà qualche lacrima probabilmente va bene andiamo a vedere ragazzi una meditazione di findorn queste sono meditazioni canalizzate da dio cioè qualcuno ha canalizzato dio fondamentalmente se però voi non credete in dio potete sostituire quella parola o la parola me perché ogni tanto lo usa con universo piuttosto che con il nome dell'entità in cui voi credete ok allora andiamo a vedere l'amore è la chiave che apre tutte le porte perché non usarla girarla no scusate girala e stai a vedere ti dischiuderà una nuova vita una vita colma di gioia e di felicità perché quando l'amore emana da te nella vita di chi ti circonda porta con sé la trasformazione l'amore attira amore è un po come dire sintonizzatevi su quella vibrazione e inizierete ad attirare persone sintonizzate sulla stessa vibrazione si consapevole di quanto siamo vicini resta in silenzio e ascolta se sei continuamente irrequieto sempre di corsa ti dimentichi di ascoltare e poi ti chiedi perché niente va per il verso giusto perché non ti senti in pace mettiti al primo posto in ogni cosa il tempo trascorso in silenzio non è mai tempo perso sintonizzati su di me fonte di ogni creazione e lascia che la mia creatività fluisca attraverso di te e sia te wow bellissima carta amici dei pesci bene spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti fatemelo comunque sapere nei commenti che a me piace sempre leggerli se poi vi è piaciuto il video potete mettere like iscrivervi o condividerlo e se volete iniziare un percorso di crescita con me vi basterà abbonarvi al canale per sapere quali sono i temi trattati potete comunque curiosare nelle playlist sono quelle che hanno la copertina lilla e li potete dare uno sguardo ai titoli insomma bene io vi ringrazio di essere stati qui con me vi auguro una seconda parte dell'anno splendida vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao